Da qualche settimana si vociferà di un presunto ritorno di fiamma fra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. In seguito a questi rumors, l'ex corteggiatrice di uomini e donne ha deciso di fare chiarezza. La 33enne Vicentina ha dichiarato su Instagram di essere stanca di queste continue chiacchiere sulla sua vita privata. E di non avere intenzione di trascorrere tutta l'estate a smentire dei gossip infondati. I due ex protagonisti di uomini e donne, dopo essere usciti insieme dal dating show di Maria De Filippi nel 2010, si sono sposati nel 2016. Nel 2020, però, hanno annunciato la rottura. Nelle ultime settimane i fan sono tornati a sperare in un ritorno di fiamma tra i due coniugi. Il gossip si è nuovamente riacceso quando Tara ha pubblicato delle storie su Instagram nelle quali sfoggiava un bracciale recante il nome dell'ex marito. Il gesto dell'ex corteggiatrice di Uedì ha catturato anche le attenzioni di Alessandro Rosica. Il quale però ha dichiarato di non essere al corrente di ciò che potrebbe essere accaduto tra la coppia. Tuttavia ha parlato di un gesto che farebbe ben sperare. Dopo queste indiscrezioni, Tara ha deciso di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Su Instagram ha chiesto a tutti di tenere a freno mani e lingua. La 33enne si è detta consapevole che sia piuttosto facile parlare a caso di vicende prive di alcun fondamento. Gabrieletto ha quindi aggiunto che quando deve dare qualche comunicazione importante lo fa sempre in prima persona. E quindi ha rimarcato, siete pregati di farla finita. L'ex corteggiatrice di Uedì ha poi precisato di non avere alcuna intenzione di passare l'estate a smentire i gossip sulla sua vita privata. Infine ha lanciato una sorta di ultimatum a tutti coloro che dovessero continuare a divulgare notizie non veritiere sul suo conto, delego direttamente i miei legali. Cristian Gallella ha detto addio al mondo dello spettacolo. L'ex tronista di Uomini e Donne ha aperto dei bar e ristoranti a Roma. Ad oggi non sembra nemmeno interessato al mondo dei social, infatti non aggiorna il suo account Instagram dal 2019. Al contrario, Tara Gabrieletto è diventata una influencer. Inoltre è in procinto di aprire un negozio di tolettatura per cani e gatti a Roma. Il matrimonio fra Tara e Cristian venne ripreso dalle telecamere di Verissimo in esclusiva. Successivamente, entrambi hanno sempre cercato di mantenere la loro vita privata lontana dal gossip. Per questo motivo, i due ex coniugi hanno preferito non raccontare pubblicamente i motivi che li hanno portati alla rottura.